Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, oggi vi porto un'altra partita di quelle che erano le bellissime playlist delle risse di Overwatch, che purtroppo sono state levate per dar spazio alla modalità creativa degli utenti, che a quanto pare si è ridotta ad un farming di casse senza controllo e che la Blizzard probabilmente presto toglierà. Io continuo a chiedermi perché si ostinano alle varie modalità per dar spazio a cose che non funzionano, però contenti loro, va bene. Comunque questa è una dimostra al tuo supporto, ovvero tutti gli eroi di supporto disponibili di tutti gli altri bannati sulla mappa Industria e Volskaya. Buona visione! Ah già, qui non ho le... che rottura. Che cosa? Non le pose belle. Vabbè. Simmetra è sempre bello. Ma è la skin base di Simmetra, non è neanche una skin. Non ho neanche una skin perché mi fanno tutte schifo qua di Simmetra. Eh vabbè, quello giallo, la Lime, non è male. Eh ma diventare un bersaglio più facile da prendere. Ma non è vero. Se non lo divento io vestito d'oro, va bene. Cioè non lo diventi con niente. Mi hai salutato Lucio io ti ignoro. The killing gate. Lucio che insegna. Cosa vuoi fare? Sono meglio io. Cosa? Vuoi sederti un po' qua con me? No, ti sono saltata brutalmente in testa. Cattivo. Barriera fotonica inizializzata. Creo una barriera. Io vedo un sacco di barriere che vanno e vengo. Che vanno e vengo. Palline ovunque. Passerete mai? Il mio drone è stato distrutto. No, ma mi chiusa. Ho sbagliato. Eh? Guarda che ruba le kill. Guarda le prendi tutte tu le prendi. Eh perché passano tutti di qua dove le ho messe io le torrette. Eh ma le ho mischiate le tue. Eh ma le ho mischiate le tue. Significa. Non ti rubo neanche una. Non è giusto. Ci hai provato eh. Sai io metto giù... Hai la ultra tu? 97. Vai metti tu il teletrasporto e io metto giù la... Lo scudo? Bene. Metto qua. Certo. Generatore di scudi attivo. Siete protetti. Ci arriva fino a lì vero? Sì sì sì. Sì sì. Quelciaf. Sì. Morirò. Ma perchè? Perchè sono andata tipo nella loro base. Ma perchè ti sei andata? Stai seguendo là. Ok. Bravo Troll! Così si fa! Stavolta che dove sono passati? Sono passati, sono passati, occhia! Eh volevi eh? Però mi ha rotto lo scudo a barbone! Le avversità sono... No, serie di dieci mi uccide Zegnatta, dannato! Beh ben ti sta! Eh perché usare una cosa di... di luce e una trascendenza insieme, scusate? Vabbè ovviamente per ucciderli. No no, ma i nostri dico! Eh perché ne hanno fatto gli avversari! No, io ho visto voi! Ce la fate ad ucciderli? Le mie difese si indeboliscono! Mi le ha rotte tutte! Ma dove rifacciamo? Come mi ha preso che gli ero dietro? Vabbè come? Come? Quanti usi ha il tuo televarco? Ancora tra! Allora metto ancora lo scudo. È che non so dove metterlo perché non so che portata ha sto scudo. Se lo metto qua lo prenderà? Guardami, dove sei? Sì ti vedo, da lì lo prende. Ok allora lo nascondo qua. Arriva fino a lì? Sì. Oddio. Fate coraggio. Il mio drone è stato distrutto. Consolidiamo le difese nella zona. Questo sarà male. Questo ti aiuterà. Mancano 30 secondi. Pese in posizione. Ci siamo quasi, resistiamo! Dovevi fregarmi. Moccioso. Eh è un cretino il tuo zeniatta. Cara della mia Mercy. È andato in trascendenza e poi ha mollato tutti i suoi leati là dietro. È andata bene dai. Doppia simbi vince sempre. Eh guarda le gemelline. Le gemelle Kessler cos'è? Figurati se non lo fa lui. Poi ti lamenti che ti frego io le kill. Vabbè ma ne hai fatte di più tu di nuovo. Ah non ho idea. Vieni uno. Tutte a mano niente sentinelle. Guardalo guardalo. Ah però qua ci sono io tiè. Eh ma lo sapevo. Se non ricordo male questa è una delle prime partite che ho fatto con la nuova Simmetra. Infatti non conoscevo bene la portata delle ultra e dei vari attacchi. Perché per chi di voi non lo sa Simmetra è stata completamente ridisegnata per renderla più friendly user. Perché la community si lamentava che non era utilizzabile, non era utile, non era incisiva. Chi di voi mi segue dall'inizio di questa serie saprà benissimo che Lawrence ha sempre fatto i numeri con Simmetra dalle prime partite. Quindi forse non era tanto il personaggio ad essere scarso ma chi la usava. Per esempio anche a me piace da impazzire Tracer. È uno dei miei personaggi preferiti dopo Widowmaker. Solo che io faccio schifo con Tracer. Infatti la uso solo nelle libere quando non mi frega se vinco o perdo. Perché mi piace usarla ma so che faccio schifo. E così potevano fare anche col Simmetra dato che stando a quello che dice Lawrence prima era molto meglio. Adesso è molto più semplice da utilizzare ma anche un po' meno utile. Comunque mamma Blizzard decide e noi dobbiamo tenerci quello che decide come le playlist random che sono state elevate. E vabbè ogni tanto fanno aggiornamenti utili e ogni tanto potenziano mei e fanno aggiornamenti brutti. E capita anche questo. Comunque, come sempre vi ricordo che in descrizione troverete i link per i vari canali. Fateci un salto, iscrivetevi, lasciatemi un like ed un commento. Non mi resta che augurarvi una buona giornata. Un saluto a tutti. Ciao. Ciao.